Ragazzi buongiorno, è domenica, sono le ore 10 e 22 e si scende, fuori sta piovendo, o stava piovendo? Stava piovendo. Stava piovendo un giorno. Oh un giorno, prima stava piovendo. Sì lo so, niente lì c'è Lilli, Lilli tutto a fare. Beh ragazzi, io chiedo che sia. A dopo. Ragazzini, tra un po' usciremo e andremo al pala a ghiaccio. Sei metà a crema? Ripala a ghiaccio. Ripala dal freddo. Quale crei? Non mi do a mettere il grasso d'oca? Anzi di foca, non d'oca. Già ce l'hai. Ma non è grasso, non è di foca edioca, ma è di suino. Buono. Io ce l'ho già bagnato. Prendi un po' di fazzolettini, gli ho detto. Due ne prendo io. No, prendi ne uno e uno che me lo devo prendere. E ci sei spingi. Devo mettere la crema alle mani che ce l'ho già scrivuto. Bene, buonasera. Quindi vedi che c'è la giacca, mi devo mettere in cominciare. Noi ragazzini, noi andiamo. Ci si vede dopo. Ciao. Visto che mi sono bardato come una prostituta. Questa giubbotta l'ho presi tantissimo tempo fa. Faglielo vedere. Si vede? Faglielo vedere, faglielo vedere. L'ho presi tantissimo tempo fa di una nota marca di un animale, di un puma. Un bellissimo puma. E niente, lo pagai all'epoca. Siamo ancora nella lira. Eh, ancora nella lira. Sulle centomila lire lo pagai. Sì. Beh, dopo, 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 su scrivere il telefono. Ciao. Ragazzi, 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 siamo al palagliascio. Sì. ehi ragazzini e niente siamo qui già nel nostro lettino sono l'1.05 un po' quante loffie abbiamo notato una cosa che io so patinare ragazzi so patinare non so se lui mi ha inquadrato avete visto che ho tolto l'audio non potevo perché c'era la musica ok però l'importante è che avete visto me oddio io non so patinare all'inizio mi sono andata a bordo 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 e poi ho osato a lasciarmi poco poco dal bordo fino a che mi sono lasciata completamente però non mi sono allontanata del tutto dal bordo perché quando mi sentivo mi attaccavo al bordo infatti non ho fatto solo una caduta ma non dipesa da me nel senso che stavo a mano con ma no tutto deve raccontare e certo stavo a mano con il fidanzo di mia nipote e per scansare un'altra persona noi siamo andati a terra però non più di tanto ragazzi ho avuto una cosa ma non so se per questioni di lavoro o questioni di tempo o questioni che non gli va o questioni che boh c'è una persona che non sta più commentando ma non perché noi vogliamo il commento per crescere no è perché i suoi commenti davano uno spritz ai nostri video perché era un modo anche di il nostro amico Danielune Sensi Danielune se ti aveva fatto qualcosa diccelo spero che tu stia lavorando tanto per risponderci così vuol dire che ti stai portando Esacchi a casa ma niente come avevamo discorso siamo andati a pattinare io grande pattinatore professionista a livelli massimo si che non si è all'interrata proprio neanche no ragazzi faccio cacare a pattinare io neanche un millimetro da là staccio faccio cacare aspetta per giunta nonostante l'hanno l'accompagnavano che c'aveva per mano altri ragazzi che l'aiutavano è caduto ma sei si no non sono caduto io no vedi che due secondi mi sono girato e ti ho visto a te a terrentonio che ti stava prendendo da non sono caduto io no sì due volte una volta sono caduto una volta ma è caduto una volta anche tu sei caduto una volta ma poi io comunque ho camminato tu invece di sentire a collante hai fatto più niente vabbè ragazzi sempre la solita deve essere la solita noiosa non è questione la solita noiosa devi ammettere che non lo sai fare vecchia bacucca vecchia ciabatta vecchia pantofola tantofola beh ragazzi domani giornata abbastanza impegnativa perché perché domani vado a prenotare quella tac vediamo cosa poi succede per me prenotiamola poi si vede vabbò e con questo il video termina qui ragazzi iscrivetevi commentate condividete mettete un mi piace nessuno ha commentato il video della banana vabbò ciao ciao a tutti ragazzi buonanotte ciao e grazie al 62 mi iscritto ragazzi eh grazie 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 spammate spammateci spammateci come ti sto sfumando ti sto sfumando ciao gle 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 grazie